Beh che dirvi oggi? Allora l'impatto che avrà questa cosa sarà sicuramente notevole e lo stiamo già vedendo, lo vediamo anche da CoinMarketCap che vi faccio vedere tra un secondo. Quindi il rialzo importantissimo che si vede a livello immediato sul prezzo, ma questa persona qui, ossia il signor Elon Musk o Elon Musk all'inglese, non so come si pronuncia il suo nome, ha 43,8 milioni di follower, praticamente è una delle persone più influenti al mondo, oltre ad essere ad oggi l'uomo più ricco al mondo. Ne abbiamo parlato proprio nel video di ieri e dell'impatto che c'è stato anche su determinati tweet che possono essere poi ritenuti essere un gioco oppure una cosa seria, chissà cosa passa nella testa di quest'uomo che si diverte molto su Twitter. Questa volta non arriva un semplice tweet, anche se poi arriva anche un tweet, c'è proprio il cambiamento di bio in cui arriva una sola parola e questa parola comporta questo effetto qui. Guardate cosa è successo, un più 16,7% nelle ultime 24 ore, in un momento in cui Bitcoin comunque aveva un andamento abbastanza pericoloso verso il basso. Tra l'altro qui vediamo su CoinMarketCap anche questa novità, che durerà poco, spesso fanno queste cose divertenti. Per chi non avesse idea di cosa fosse, basterà guardare il video di ieri, la storia legata appunto a GameStop e Dogecoin. Dogecoin che torna nuovamente in questa tematica, infatti abbiamo visto che tipo di conseguenze ha avuto anche un semplice tweet o qualche tweet del signor Elon Musk. E ad oggi questo tweet in retrospettiva era inevitabile, a cosa si vorrà riferire? Magari ad altro, difficile però pensare che sia altro dopo che cambia la sua bio in questo modo, imitando un altro personaggio che vi feci vedere più volte, che non è proprio un personaggio nascosto soprattutto su Twitter, il nostro Jack Dorsey. Dico il nostro perché Jack Dorsey è un evangelista di Bitcoin ormai da tempo, la sua bio era Bitcoin ormai da tempo, ed è il fondatore, nonché CEO appunto, della piattaforma Twitter. Quando ci sono stati anche i dibattiti proprio dell'ultimo periodo riguardo a determinate censure, lui stesso che ha dovuto prendere delle decisioni difficili nell'ambito appunto politica americana, ha detto di come la struttura social dovesse diventare sempre di più come Bitcoin. Non perdo occasione per nominarlo, a parte anche la sua Square che è un'altra azienda che si occupa unicamente appunto di questo. Ma questa cosa qui è di un impatto mostruoso, e quello che arriverà è ancora più grande. Dobbiamo pensare a questo come l'inizio di un qualcosa e un cambiamento radicale, di cui abbiamo discusso anche nel live appunto di questa settimana. In passato Bitcoin veniva a qualche modo nascosto, anche chi ne deteneva a qualche modo se ne vergognava. Ad oggi sembra diventato tutt'altro, uno sbandierare un certo senso di libertà o ribellione a un sistema. Forse non è la volontà di Elon Musk in questa sua cosa, però questo porterà a conti fatti una grande conseguenza mediatica. E se questo mi può stupire tanto, perché questa mattina mi stupisce, e credo che tra l'altro andando a fare un attimo un'analisi tecnica se vogliamo, questo stupirà anche parecchi troppo legati a appunto grafici o analisi su grafico. Ed è per questo che spesso e volentieri ho detto è pericoloso fare il 100% della propria operatività legandosi ad analisi tecnica e basta. In quanto, come è successo per GameStop, questo sicuramente ha portato uno short squeeze. Quindi bruciare determinate posizioni aperte in short su Bitcoin, in quanto una cosa del genere non era leggibile a livello tecnico. E queste cose possono succedere. Quindi quando si fa una lettura del mercato bisognerebbe quantomeno mettere insieme analisi tecnica, analisi fondamentale, analisi on-chain, fare un certo calcolo di probabilità e poi valutare come muoversi. Ma se si fa in un 100% tecnico e poi arriva una cosa del genere, ci si fa veramente tanto male. E questa è la dimostrazione di quello di cui mi riferisco ormai da anni, quando dico che ci sono variabili imprevedibili. E questa è una delle variabili più grandi che c'è. La cosa che in realtà non mi stupisce tanto questo avvenimento nel giorno di oggi, perché sappiamo appunto a livello fondamentale venerdì, ossia nella giornata di ieri del 28 gennaio, c'era una scadenza importante per tutto il mercato delle opzioni. Quindi un certo concatenarsi appunto di notizie fondamentali, di notizie di lato tecnico, lato anche on-chain, perché poi adesso il movimento arriva, però non era prevedibile. E un po' in secondo piano, che appunto in realtà non mi ha stupito, è arrivato anche questo. Questo signore qui chiama Bitcoin one hell of an invention, ossia un'invenzione di un certo tipo, di un certo spessore, e il signore è Ray Dalio. Come chiunque segua questo canale da un po' di tempo saprà, sono un grande estimatore, direi Dalio, da tutti i punti di vista, per come lui approccia alla vita, per quello che ha passato, da dove viene e quello che ha creato. Il suo voler continuamente migliorare, e lo dimostra praticamente sempre. Guardate, veramente, andate a vedere quello che ha fatto nella sua vita per capire che spessore di persona. E le sue analisi sono tra le migliori che si possono trovare. Ho pubblicizzato spesso un video in cui facevo appunto l'analisi di uno dei capitoli che ha scritto nella sua ultima opera, nel suo ultimo libro, in cui andava a analizzare la probabile fine di un ciclo economico. E da questo punto di vista non sapeva neanche lui bene come le conseguenze sarebbero potute andare. L'unica cosa è che bisogna adesso trovare una certa soluzione alternativa all'attuale sistema monetario. E mette in gioco come alternativa proprio Bitcoin, che oggi viene messo in bio da Elon Musk. Addirittura annuncia che vorrà creare un fondo di investimenti dedicati appunto, e quindi offrire a clienti una protezione contro il debasement delle fiat money, quindi l'inflazione della moneta. Queste sono proprio parole di Ray Dalio. Aver inventato un nuovo tipo di moneta su un sistema programmato su computer, che ha funzionato per circa dieci anni, e che ha preso molto rapidamente popolarità, sia come tipo di moneta che come riserva di valore, è un conseguimento, è un traguardo veramente impressionante. Queste sono parole di Ray Dalio, che qualche tempo fa, infatti qualche articolo adesso già sta scrivendo, ho fatto un'inversione a U, ha cambiato idea a 180 gradi. Lui non è mai stato negativo su Bitcoin. Quando ho preso in causa, ha sempre detto, io mi ricordo la conferenza a Davos dell'anno passato, disse, quando gli chiesero cosa pensi di Bitcoin, è troppo volatile. Ancora eravamo pre-crisi, pre-crisi economica, pre-lockdown pesante. Insomma, tante cose dovevano ancora succedere, e probabilmente il suo approfondimento su Bitcoin era ancora molto leggero. Quindi dal punto di vista di investimento lo vedeva volatile, cosa che non si può nascondere. Però non era contrario. Ad oggi ha sicuramente approfondito qualcosa in più, anche perché nel percorso, l'ho coperto io stesso nel canale, si è avvicinato sempre di più, anche durante una sua ultima Esme Anything, ha risposto, sono pronto a scoprirne di più, voglio saperne di più. Ed è questo quello che fa una persona intelligente di questo calibro. Non ci sono molte alternative gold-like in questo tempo in cui ne necessitiamo veramente tanto. Infatti, lui stesso ricorda di come nei cicli macroeconomici si è sempre tornati a un gold standard. Rifugio, il bene rifugio per eccellenza, è sempre stato l'oro per l'umanità. E quando si arriva appunto alla fine di un ciclo, solitamente si resetta in quel modo lì. E non ci sono molte altre opzioni, quantomeno non ce n'erano. E ce lo ricorda, non ce ne sono molte. E ad oggi comincia a vedere Bitcoin come una di queste. Allo stesso tempo però, ricorda anche che è da prendere con le pinze. Infatti ci dice, mentre Bitcoin ha il potenziale di rendere gli investitori molto ricchi, allo stesso tempo potrebbe distruggere l'esistente sistema monetario. E quindi ci sono dei rischi. Perché le cryptocurrency sono probabilmente vulnerabili a degli attacchi, soprattutto attacchi hacker, e soggetti a restrizioni governative che vogliono prendere il controllo sopra, vogliono mantenere il controllo sopra il money supply, quindi l'emissione monetaria. È ovvio che sia così, è quello di cui parliamo praticamente quotidianamente. Ma come la vede Bitcoin? Cosa pensa di Bitcoin a questo punto? Pensa, questa è una sua parola, una sua affermazione, un'opzione di lunga durata, verso un futuro molto incerto. E questo cambia i giochi in modo radicale, ci mette veramente un'etichetta sopra, anche perché questo stesso articolo di Bloomberg ci ricorda di come Ray Dalio sia a questo punto l'ultimo di una serie. Quest'anno, ricordiamo, quest'anno, nel 2020 ricordiamo le affermazioni di Paul Tudor Jones, ricordiamo Grayscale come fondo di investimento che fa appunto man bassa di Bitcoin, MicroStradici, Michael Saylor, PayPal, che crea dei servizi per clienti che vogliono operare in Bitcoin, usarne o acquistarne, e appunto anche Ray Dalio che ne parla in questo modo. A questo punto, questo cambiamento diventa veramente un cambiamento epocale, si cambia completamente registro, e viene incoronato in una giornata come questa, da parte di Elon Musk, che ripeto, adesso noi non possiamo sapere se lui sta giocando, che cosa sta facendo in questo modo qui, ma non importa, perché a quanti fatti aver fatto questa mossa provocherà una conseguenza mediatica che noteremo adesso, da oggi in poi, e vedrete che tipo di ripercussione si avrà sui giornali, sui mass media, online, c'è solo da seguire l'evoluzione di questa cosa. E a questo punto che cosa vi sto dicendo? Attenzione, non vi sto dicendo andate a comprare Bitcoin perché farà come Dogecoin, e quindi scatenare un certo tipo di FOMO, anzi, il contrario, io non farei proprio questa cosa qui, perché è il momento di rimanere razionali, di non farsi prendere da euforia irrazionale, che come spiegato recentemente, è il motivo per cui crescono delle bolle. Ma, a questo punto, se eravamo sempre stati scettici, verso Bitcoin, e verso questo settore, e vediamo queste cose che vi ho fatto vedere, quindi, un Elon Musk che cambia la sua bio in questo modo, che twitta in questo modo, un Ray Dalio, che appunto afferma determinate cose, quantomeno è il momento di approfondire Bitcoin, perché tempo fa dissi, occhio che il tempo per avere un Bitcoin intero sta per finire, e oggi vi dico, attenzione, perché il tempo per iniziare a studiare Bitcoin, comincia a scarseggiare, e ve ne accorgerete, se non fate nulla per approcciarci. e ve ne accorgerete, non devo dare fare un problema per onderzo, inاز km di più contrari, e inevitabil hablar,